Settete Hihihi Sì ragazzi sono ufficialmente tornato su Youtube E siccome ho manco a fare video su Youtube Cominciamo subito Quindi 3 2 1 Super Ciao a tutti e ben ritrovati su un nuovo video di Subeladrenalina Anche se su un nuovo video No perchè voi non stare sul video Stare sul canale Ben ritrovati dopo 3 settimane di assenza Vi chiedo scusa per questa cosa Oggi voglio fare una cosa un po' diversa Sempre un video monologo Cioè pensare se io una cosa la ricessi con una nota E non è Sarà banda di Enrico Papi Voglio È un video monologo che voglio fare oggi Allora iniziamo quindi con la prima nota Do Come Dormire Già Dormire Allora facendo un calcolo approssimativo Noi passiamo circa 2-3 mesi dell'anno Soltanto a dormire Perchè Se si considera Che si dormono in media 8 ore al giorno Facendo un attimo con Waiu E' veramente tanto il tempo che passiamo a dormire Allora chi non ama dormire Waiu Soprattutto magari in inverno Quando tra le tante altre cose Si va a scuola Si va a lavorare Si va a fare qualcosa Insomma tutto Quando fuori piove C'è il temporale C'è sto malatempo E tu vorresti stare con la testa sotto le coperte E dormire Io l'esempio mi sono fatto A cui si va a chiuso E io sono uno che non dorme mai Anzi a me non piace dormire E soprattutto mi sveglia subito Ehehehe A chi bubù Si va a bubù In questo momento stai dicendo Gianni Eppure non ce l'avete ragione Devo agire la verità Perchè ho detto una cavolata Dormire Perchè? Per sognare Perchè quando si dorme Si sogna Poi tu è uscita Ti rendi conto che era un sogno E ti sembri che una latina di prima E' bello su fat Già perchè da dormire Si può passare ai sogni Tutti abbiamo un sogno Nel cassetto In dall'armario E il problema è che se avete in casa una nonna Poi non lo ritrovare più Perchè Dice lo stupbo del da mezzo E ve lo fa sparire Quindi voglio nascondere bene se è qualcosa Questo era il primo argomento Quindi con la prima nota Passiamo avanti Re come resta Già ragazzi Chi nella propria vita Non si è mai sentito dire questa fatica frase Resta Resta con me E quindi insomma è una frase che tutti ci siamo sentiti dire Oppure abbiamo detto Magari a un amico A una amica A un fidanzato A una fidanzata Nel momento in cui voleva andare via Come anche magari avete affermato Cambiando solo l'ultima vocale di questa frase Che voi eravate lì Cioè io resto Questo Quindi eravate voi che dicevate questo Oppure avreste sentiti dire Magari dagli esempi precedenti Che vi ricevano Io resto Qualsiasi cosa succeda Poi Poi Non solo vi picchiavano Ma Vabbuffavano pure E voglio dire E' rimasto proprio Che cacchio Insomma La migliosa andava via Secondo noi Però la parola resto Sta a significare anche altro Cioè nel senso Il resto dei soldi Ad esempio Andate al ristorante Il conto è il 30 euro Voi avete il 50 euro O che amerete pure un Pinterest Se vi va bene Però siccome a Napoli ci piace E stravolgere un po' le parole Resto E' diventare una parola Che si faceva pure paura A chi non è mai capitato Che La mamma Dopo aver fatto qualcosa Di sbagliato Oppure Quando preveniva qualcosa Di sbagliato Sto appiccicando Calengo Come al solito Vi diceva Tanto po' Tu lo vorresti Che non erano soldi Del cameriere Che magari avevi dimenticato Di venderti la sera prima Ma erano tutto ammazzato Quello è l'unico momento Che vorreste Che quando gli avete detto Tu lo vorresti Voi vorresti rispondere Tempito e mancia Quando vuoi Non vuoi Perché ho visto Tu lo stesso Passiamo avanti E' meglio Mi Come Migliorare Eheh Echipupu Migliorare Oddio come avevo riuscito a parlare Anche di migliorare Non si dice Why you non si dice Non ho detto niente Andiamo avanti Migliorare Ecco Diciamo che è un po' Un pallino fisso di tutti noi Adulti Vecchi Bambini Giovani Insomma Il voler migliorare E' un punto primo della nostra vita Magari migliorare su un aspetto che non ci piace Migliorare su un qualcosa fisica che nemmeno ci piace O migliorare semplicemente la nostra vita Cercando di fare qualcosa Ecco Soffermiamoci su questa cosa Voglio migliorare la vita Non è una cosa che si fa la sera a mattina Giornetti Io mi sveglio questa mattina Ok adesso voglio migliorare la mia vita No Eheheheh Ero una schioccata Ci riprovo Ecco qua adesso ho schioccato No voglio Per migliorare la propria vita Bisogna cercare di fare qualcosa di costruttivo E invece vedo che molte persone Non fanno qualcosa di costruttivo Fanno qualcosa di distruttivo E invece di migliorare Vanno a peggiorare No voglio non si migliora così Cioè Ci sono tanti modi positivi di migliorare Che però a maggior parte di noi Non conosce Cioè Allora io mi fanno io no Per migliorare bisogna Prima di tutto Capire dove possiamo arrivare Cioè E' normale se io non so cantare Non posso dire che devo migliorare a cantare Perché se non tengo la voce Non posso cantare E mi farò più come cosa Ho fatto questo esempio Certo per far capire Ma ci sono tanti altri esempi Che vorrei fare Però voglio siccome volessi fare Non dico un film Passiamo alla prossima nota Fa come fare E qua pure ci sarebbero tante cose da dire Tipo Allora Purtroppo siamo in una società Dove Si dice di fare Ma poi alla fine si dice solo O sacci che non mi state capendo Adesso mi spiego meglio Nel senso che Se è sembrita la frase Dalle parole bisogna passare ai fatti Oppure Bisogna fare i fatti E non le parole O ancora Con la bocca si può dire tutto Si voglio è vero questa cosa Perché Esempio voglio parlare Di un esempio calcistico Chi non ha avuto In comitiva Un amico Che diceva che era Maradona Junior E a parole Pura anche io Posso dire di essere più forte Di Cristiano Ronaldo Poi Quando si organizzavano Le partite settimanali Facevo solo figure in merda Aurelifnino Sono Sol Come Soldi I soldi La rovina E la felicità E servono a migliorare la vita Non servono a fare felici una persona Waiu sui soldi è uno degli argomenti Che più va di moda in questo periodo Si parla di crisi Si parla di ricchezze Waiu i soldi sono dappertutto E' famosa la frase I soldi non fanno la felicità Waiu non diciamo strunzato Parliamoci chiaramente Non fanno la felicità E' ovvio perché i valori sono alti Ma parlamoci chiaro Una cosa che i soldi più in tasca Non fa mai male Soprattutto nei ragazzi che Visto che il lavoro non c'è Purtroppo E non c'è la possibilità di aggrapparsi Sulle spalle della famiglia A meno che Non ti chiamo Berlusconi O Bill Gates Non puoi fare questa cosa Parlamoci chiaramente Però Purtroppo Nella generazione attuale Ci sono modi sbagliati Di fare soldi Modi non giusti Giusto vuoi dire E tengo Ma non fotto proprio come mi faccio Nooo L'hai da farmi Fare cose illegali E' risiche Poi tenere i soldi in ogni caso Waiu Non è bello Fate cose giuste Lavorate Studiate E vedete che i soldi poi arrivano Waiu non vi dico di fare video Perché con i video soldi Non ce ne vedono Lavoro e chiudo Parentesi Eheh Ehi bubu La Come Lavorare Diciamo che Lavorare Su questo canale E' un tema che va Molto forte Si Waiu Perché Come ho ribadito E ribadirò fino alla morte Non amo il mio paese E mi rendo conto Che più passano gli anni Più i giovani crescono E più Non sono Di giovani lavoratori O Ma sono semplicemente Di futuri disoccupati Waiu Parlamoci chiaramente E' così Visto che il lavoro non c'è E non c'è quindi Quell'attitudine E' quell'abitudine Di lavorare Parlamoci chiaro Noi ragazzi del 90 A salire Simmi ci farei caro Waiu Non ci piace lavorare Non ci piace alzarsi alle 6 del mattino Per andare Sul posto di lavoro Che sia una fabbrica Che sia un cantiere Qualsia Qualsiasi Non ci piace A salire A salire A salire A salire A salire Tipica dei matrimoni Che c'è la volontà Di affermarsi E' sempre una cosa bella Waiu Soprattutto se sei giovane Se sei a 15 20 25 30 anni E' sempre la cosa più bella Waiu E questo è stato il video Ho cercato di fare una cosa diversa Ho provato a strapparvi un sorriso E una riflessione Come in tutti i miei video Waiu Solite cose Se il video vi è piaciuto Un bel pollice in su Condividete sui social Che volete Che siano facebook Twitter Instagram Non sui social Vabbè Voi potete condividere anche con loro Tranquillamente Commentate E iscrivetevi Al canale Se non l'avete ancora fatto Se il video non ti è piaciuto Non fa niente Io la mattina mi alzo lo stesso E anche tu Quindi alla fine siamo 0 a 0 Valla 100 Waiu Ci vediamo col prossimo video Vi voglio tanto tanto bene E ciao Ciao Ciao